C'era tanta attesa nell'ambiente agrigentino per la finale di Coppetale Eccellenza che si è disputata ieri allo stadio Aldocampo di Ragusa. Il risultato, però, non ha lasciato spazio alle speranze bianco-azzurre. La nuova Egea Virtus, infatti, ha vinto il trofeo grazie a un meritato 4-0 che non ha mai messo in discussione la contesa. La supremazia della formazione di Pasquale Ferrara è stata palese sin dall'inizio, con il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete dell'argentino Lucas Idojaja. Nella ripresa subito il raddoppio dell'Igea ha definitivamente chiuso la partita, con l'Akragas che è rimasta in 10 per l'espulsione di Garufo. Poi il terzo e il quarto gol hanno vidimato la disfatta agrigentina. Il triplice fischio ha dato il là alla festa della squadra messinese, che ha conquistato il primo trofeo della stagione. Per l'Akragas un pomeriggio da dimenticare, una pesante debacle che preoccupa in vista della prosecuzione della stagione, a cui è difficile trovare una spiegazione. Sconvitta pesante, è difficile da giustificare. È chiaro che oggi c'è stato un blackout totale della squadra, anche perché non ho visto un problema tattico, ma ho visto due anni persi in mezzo al campo, tanti errori tecnici, tante situazioni che in altre situazioni abbiamo gestito in maniera diversa. Ho visto la squadra che si è rifiutata completamente di adottare i principi di gioco che aveva adottato fino a questo momento, cioè dire il fraseggio, il palleggio corto. Invece abbiamo cominciato a buttare via sta palla. Quindi, ti ripeto, probabilmente un blackout generale, una partita difficile da giustificare. È chiaro che noi abbiamo un campionato da disputare, dobbiamo far sì che questa sconvitta non pesi più di quanto già pesa nelle teste dei ragazzi. Quindi già da domani dobbiamo cominciare a lavorare sulla testa, sulla mentalità, ripartire anche perché il nostro percorso continua. Le parole del tecnico a fine partita hanno lasciato trasparire tutta l'amarezza per una sconfitta inopinata, che non va però a intaccare la consapevolezza che la stagione è ancora lunga e per l'Akragas ci sarà l'occasione per dimenticare il pomeriggio di Ragusa.